Ciao lettrici e lettori e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale. Mary Lulamas a tutti, ci stiamo facendo compagnia nei giorni dell'avvento con un video al giorno per chiacchierare di libri e raccontarci insomma un po' le nostre opinioni, le nostre abitudini di lettura e quant'altro. Oggi vi porto un video a cui avevo accennato in un video precedente e nei commenti varie persone mi avevano detto che gli era sembrata un'idea molto carina quindi mi sono decisa a girarlo e sono libri con il cibo nel titolo, nel titolo o nella storia diciamo io ho scelto dei libri in cui il cibo compare già nel titolo perché ho pensato fosse il modo più facile per raggrupparli però sicuramente il mondo è pieno di libri basati sul cibo che magari non hanno un titolo necessariamente che riconduca ad un piatto particolare però quello a cui ho pensato io è appunto libri con il cibo nel titolo e in cui appunto poi il cibo rivesta un ruolo particolare. Quest'idea mi è venuta per via di due libri di cui vi ho parlato recentemente e meno recentemente ma che avevo accomunato quindi partiamo subito da quelli. Il primo è Il tortellino muore nel brodo e il secondo è Aglio Olio Assassino. Il tortellino muore nel brodo è un giallo all'italiana ambientato a Bologna mentre Aglio Olio Assassino è un giallo all'italiana ambientato a Napoli. In entrambi i casi la trattoria, il ristorante locale è un po' al centro della narrazione e nel caso del tortellino muore nel brodo il ristoratore diventa un po' anche quello che svolge l'indagine mentre nel caso di Aglio Olio Assassino la trattoria diventa un po' tipo il quartier generale in cui si ritrovano i ristoratori ma anche il poliziotto che sta indagando sul caso. Quindi in qualche modo insomma c'è non solo il filo conduttore del cibo legato in particolare al luogo ma anche il fatto che ci sia un mistero, un giallo da risolvere e che il ristorante in primo piano diventi anche un po' il luogo delle indagini. Quindi avevo pensato a questi due titoli proprio per questo. In uno avete una spiccata meravigliosa ambientazione bolognese nell'altro avete una spiccata e meravigliosa ambientazione napoletana quindi non avete che l'imbarazzo della scelta. In entrambi poi la città effettivamente ha un ruolo molto preponderante viene raccontata nel caso del tortellino muore nel brodo molto attraverso i luoghi della città e nel caso di Aglio Olio Assassino anche molto attraverso l'arte. Quindi c'è anche quest'altro aspetto molto interessante e sono assolutamente due letture godibilissime, scorrevoli, divertenti ma che vi è proprio dal punto di vista del cibo. Poi altri titoli a cui ho pensato che abbiano il cibo nel titolo, su alcuni non mi soffermerò perché ve ne ho parlato tante volte, però abbiamo Torta al caramello in paradiso di Fanny Flagg. Questo è un titolo in cui la torta del titolo ha effettivamente un ruolo. È un titolo che in inglese era completamente diverso. Vi metto qui sotto il titolo inglese perché in questo momento non me lo ricordo ma quindi proprio è stata la traduzione italiana a volere la torta al caramello nel titolo. Però appunto c'è un significato particolare e questo è uno di quei libri che io adoro perché hanno una protagonista anziana ma non solo, una protagonista piena di energia che in qualche modo fa da collante a un intero paese. Questo è un aspetto bellissimo di questo libro. L'aspetto appunto della torta al caramello ha un significato particolare nell'ambito del libro quindi in questo caso non lo voglio approfondire più di tanto però è una lettura veramente che vi consiglio tantissimo. Tra l'altro che è stata recentemente ristampata quindi è di nuovo anche disponibile in cartaceo cosa che per tanti anni non era non era stata insomma non era un titolo che si trovava facilmente. Poi sempre in tema di torte ho trovato che avevo altri due libri in libreria. Il primo è L'inconfondibile tristezza della torta al limone di Amy Bender che è un titolo che io ho molto molto amato ed è un libro che ha un aspetto di chiamiamolo realismo magico molto bello ovvero una bambina che scopre di poter sentire i sentimenti delle persone in base li può assaporare nel cibo che preparano e appunto questa inconfondibile tristezza della torta al limone è ciò che dà avvio a tutto il racconto perché in questa torta al limone la nostra protagonista scoprirà delle emozioni che non conosceva di sua madre emozioni che in qualche modo la madre ha messo nel nella torta mentre la preparava quindi questa idea di poter conoscere i sentimenti delle persone in base al cibo che preparano io l'ho trovata interessantissima è veramente un libro molto godibile secondo me c'è solo una pecca cioè quella che in qualche modo c'è un aspetto del libro che non viene approfondito abbastanza e quindi resta molto molto sospeso però a parte questo è una lettura molto profonda un po dolce amara ma molto delicata in quello che racconta e nei sentimenti che racconta appunto tramite questo espediente quindi veramente è un libro che io ho adorato e che mi ha fatto desiderare di leggere anche altri titoli della stessa autrice che vorrò recuperare prima o poi perché comunque mi ha un po aperto un mondo rispetto a questa autrice poi altro titolo super interessante con cibo nel titolo è basilico questa è una graphic novel che racconta una storia di famiglia tramite le ricette della madre della famiglia ma in realtà racconta anche di segreti mai confessati aspetti più oscuri della storia di questa famiglia però molto molto incentrata appunto sul piatto che la madre prepara per ognuno dei suoi figli e la cosa molto bella di questo libro di questa graphic novel è che ci sono le ricette preparate dalla madre attraverso i vari capitoli della graphic novel quindi ad ogni figlio corrisponde una ricetta particolare preparata dalla madre e le ricette vengono illustrate all'interno di questa graphic novel è un racconto non banale secondo me nasconde molti più strati e molte più chiavi di lettura di quello che potrebbe sembrare dall'inizio è un titolo che ho amato molto e che secondo me se amate le graphic novel con qualcosa in più nel senso appunto con una chiave di lettura un po più profonda assolutamente vi piacerà e appunto il basilico fa da filo conduttore a tutta la storia tutte le ricette che vengono che vengono illustrate nel corso della graphic novel e insomma nel racconto di questa famiglia di quello che succede negli anni a questa famiglia il filo conduttore del cibo è importantissimo quindi assolutamente anche questo un racconto un po' dolce amaro anche qui un racconto di una famiglia a tratti problematica però comunque con questo trade union della cucina che comunque poi alla fine no unisce in molti casi le famiglie poi altri libri con il cibo nel titolo che mi sono venuti in mente sono amici amanti cioccolato di alexander mcclesmith questo è il secondo titolo della serie di isabel dalhausi ambientata a edimburgo e la serie è quella del club dei filosofi dilettanti questo è un titolo e una serie in generale che secondo me è un po' furbiante nel senso che il tema del club dei filosofi dilettanti non è super presente nella storia però quello che a me piace di questi libri è che in qualche modo si affrontano degli eventi tramite la chiave dell'etica quindi comunque c'è una lettura un po' diversa rispetto ai soliti libri che contengono magari un mistero da risolvere un evento particolare o un giallo che in qualche modo cambia un po' la visione delle cose e l'angolo da cui si guardano questi eventi il cibo è in generale abbastanza presente anche perché la nipote della protagonista isabel ha un negozio di alimentari un po' tipo chic quindi spesso ci sono delle scene ambientate lì e in qualche modo insomma sì il cibo ritorna in questo libro il cibo ritorna in realtà anche in vari titoli di libri di questo autore perché ho visto che ci sono altri titoli in cui rientrano i nomi di alcuni cibi quindi insomma è un po' forse anche qui un filo conduttore di queste serie però insomma mi piace perché dà secondo me un po' il mood di questi titoli ultimissimo titolo che cito ma di cui non parlerò e su cui non mi soffermerò perché ve ne ho parlato mille volte ma non potevo non citarlo è il club del libro della torta di bucce di patata di Guernsey e anche qui in realtà insomma c'è un motivo per cui questa torta di bucce di patata è stata scelta anche per comparire nel titolo essendo un libro ambientato subito dopo la seconda guerra mondiale c'è appunto il racconto di come avessero ideato questa torta con quello che avevano ed era una torta fatta appunto con le bucce di patata questo è un libro che io adoro uno dei miei comfort books più amati un libro che racconta dell'amore per i libri per la lettura di come i libri ci possano salvare ed è veramente una lettura che amo tantissimo quindi non mi soffermo perché ve ne ho parlato tante volte però non potevo non citarlo l'ultimo invece è un libro che ho in wishlist non ho ancora deciso se procurarmelo in cartaceo oppure ascoltarlo in audiolibro ma si tratta di Chocolat questo è un libro super famoso da cui è stato tratto anche un film altrettanto famoso ed è un libro di cui ho sentito parlare molto bene per via delle atmosfere per via di questa presenza del cioccolato preponderante e quindi che rende tutto il libro molto dolce molto pieno di atmosfera molto coccoloso quindi questo è proprio per eccellenza il libro nella mia wishlist che ha il cibo nel titolo e che appunto sto cercando di capire se recuperare in audiolibro oppure se acquistare perché si trova molto facilmente di seconda mano quindi potrebbe essere un recupero facile facile però insomma ci penserò ma è assolutamente un libro che mi piacerebbe leggere magari nell'inverno 2022-2023 perché penso sia proprio perfetto per il periodo autunno-inverno quindi magari vedrò di recuperarlo o di ascoltarlo in questo periodo questi erano tutti i libri che ho letto con il cibo nel titolo ovviamente questa volta più che mai mi piacerebbe ricevere i vostri suggerimenti mi piacerebbe sapere se avete qualche titolo da consigliarmi qui sotto appunto a tema cibo se non con il cibo nel titolo magari in cui il cibo rivesta un ruolo particolare fatemi sapere perché lo spazio qui sotto è tutto vostro io vi ringrazio tantissimo come sempre per il vostro tempo il vostro affetto per la vostra partecipazione in questo nuovo Mary Lula Mass e noi se vi va ci vediamo domani ciao ciao